Il TAR di Salerno ha annullato il provvedimento di rimozione delle cabine in legno a Lido Miramare di Batipaia. I giudici hanno accolto la richiesta di annullamento da parte dei titolari dello storico Lido, rigettando l'ordinanza del Comune che stabiliva la rimozione. In mancanza di appelli in secondo grado, il Comune dovrà pagare il risarcimento per le spese legali alla società che gestisce la struttura. Intanto è stato approvato un nuovo regolamento per le spiagge del demanio marittimo, e per le attività legate alla balneazione che vieta di lasciare sedie e ombrelloni dopo il tramonto in spiaggia e pone anche un veto sui falò. Inoltre, i gestori dei Lidi dovranno procedere a pulire le spiagge libere confinanti con quella per cui sono in possesso di una concessione.